Nel centro della Calabria esiste un luogo unico, il Parco Nazionale della Silla. Proprio lì, il 12 agosto, dalle 14, prenderà vita la prima edizione del Wonderful Silla Festival. La line-up è infinita. Domenico Scordamaglia, Anima Mundi, Liccia, Renato Caruso, Francesco Coriati, Anteo, Dharma, DJ Kiel, e ancora Santino Cardamone, Andy Fumagali, Saturnino, Maninni, Eman, Eman, Pier Davide Carone, e da concludere, i Bundabash, seguiti dal DJ Seth Den Sol, targato Radio 105, organizzato da GBL SRL, con la direzione artistica di Tony Vandoni, Giba ed Emanuele Trocino. Il 12 agosto, al Villaggio Baffa, a Cotronei, in località Trepidò, Wonderful Silla Festival sarà presentato da Vanessa Gray, e Francesco Rapetti Mogol, e preceduto dall'imperdibile Mostra Museo Casa Mia Martini, in partnership con l'associazione Minuetto Mimisarà. In partnership con l'associazione Minuetto Mimisarà. 12 agosto, dalle 14, Villaggio Baffa, Wonderful Silla Festival, la musica italiana nel cuore della Silla. Centro Scacciare via non serve, devi scrivere e vedere come va a finire, ed ogni notte penso a ciò che ho scritto e non ti ho detto, mando tutto in cenere per non impazzire, e poi sei stronza e non sei bella come quell'altra, non sopporto quando parli e il mondo ti guarda, odio il tuo profumo solo si potesse avere, odio il mondo in cui lo fai come se avessi sete. Seduto al banco tracciavo i voli, le nuvole così distanti, il professore mi rimproverava, la sua noia e i miei occhi stanchi, baudelare sui fiori freschi, insieme a lei aspettavano fuori, strano come i piaceri possano apparire più grandi, e poi giochi nel buio dove si crudono i... Ciao, ogni volta che ti vedo di giorni e di notte, am distratto, no per niente, siamo al Wonderful Festival, Silla, allora, che ci presenti stasera un'anteprima su Radio Jack? Anteprima? No, no, un'anteprima per questa sera, dovete venire qui a vedere. E siamo già qui con Radio Jack, quindi grazie, ti aspettiamo sulle frequenze in diretta. Certo, saremo in diretta, quindi sintonizzatevi e ascoltate con noi. Grazie, ciao! Manini su Radio Jack, al Wonderful Silla Festival, complimenti, ho veramente una grande esercizione. Grazie mille. Allora, com'è andato questo concerto? Ti sei felice di essere in Calabria? Sono molto felice di essere in Calabria, sono riduce da una settimana ricca di eventi in Calabria, quindi ho fatto un po' con qui il giro della Calabria, ed è una terra meravigliosa che andrebbe secondo me valorizzata di più. Bene, allora ti aspettiamo su Radio Jack per un'intervista in diretta, magari. Passo tutto da me. E complimenti, veramente. Ciao, benvenuto a Sur, ciao. Te ne vai dai tuoi anche questa settimana, non vuoi bruciare con me? Se guardiamo cinese, viva il mare, hai salutato i gatti e hai messo la mia giacca, cosa mi lasci di te? Non trovi neanche una scusa, fin di bene. Dicono che non si può restare soli, ma poi alla fine forse è meglio da soli, è meglio da soli. Chi se ne frega, non è poi la fine del mondo, allora chi se ne frega, le serie tv sulle valli, ma c'è la francese, lo vedi non ci manca niente, ti baci e ci ridiamo insieme di tutti quei giorni che ci hanno fatto male. Buongiorno Presidente, ci vuole parlare di questa iniziativa? Beh, cosa dire, questa iniziativa è stata doverosa, riportare in Calabria a casa sua a Mia Martini era la cosa più giusta che io potessi fare. E quando ce l'hanno proposto non abbiamo fatto nient'altro che riempire le valigie con una parte, è ovvio, della sua intimità e venire qui a casa sua. La ringraziamo per questo intervento, la invitiamo su Radio Ciac per una diretta radiofonica. Quando volete contattatemi pure, anche ci sono. Date arte, ciao. Grazie a voi. Sa di te come guardare il mare, ma con un occhio solo, mentre andiamo a fondo, così, così.